Guardiamo e vi do un momento di cercare questo nuovo libro che abbiamo stamattina, si chiama Giuda. Piccoli libri, grandi messaggi, e Giuda è nel Nuovo Testamento il libro prima dell'Apocalisse. Quindi aprite le vostre libbie alla parola Giuda. Allora, vorrei dire che nella Chiesa, quando Giuda scrive, noi abbiamo il problema a posto di quello che avevamo a Roma. Alcune settimane fa, ricordate, c'erano due gruppi, abbiamo parlato, due gruppi nella Chiesa, una difficoltà. La difficoltà era che c'era il gruppo di indigeni romani, c'era il gruppo che è stato espulso e doveva ritornare degli ebrei credenti, e c'era una divisione tra gentili e gli ebrei, e questo muro che è stato lì, che Paolo stava dicendo, in Cristo c'è un potere dove potete avere pace nell'impero. Dobbiamo solo mettere questo sotto sopra, perché adesso c'è una comunità più ebraica, con un'influenza anche di altri gentili greco-romani, se posso dire, da quella cultura, che stavano entrando nella loro Chiesa e stavano portando anche delle scuse, delle giustificazioni di dire, a noi ci piace molto la materia e la Bibbia, ma come viviamo è come la nostra cultura. Cioè, in un modo immorale, specialmente di, come vedremo in Giuda, sessualità e l'autorità. E così, in Giuda, infatti il suo nome è Giuda, è dopo il tribù di Giuda. Giuda è stato, prima che andiamo avanti, vorrei parlare di questi, e Giuda dice che in questo passaggio ci sono due gruppi, ci sono gli amati di Dio, lui dice amati, amati, fratelli, ok? I fratelli amati, quello è un gruppo. Lui dice ci sono questi altri, altre persone che sono venuti dentro, che stanno vivendo, dicono sì, che sono parte della famiglia, membri, ma sono lì per consumare, per prendere dalla famiglia di Dio, per avere, per ottenere cose, per soddisfare la carne e i desideri della carne, ok? Quindi oggi, semplicemente, intitolato questo, cristianesimo dei consumatori. E Giuda parla contro questo consumerismo, tipo di frequentare chiese solo per avere qualcosa. Ma cosa vuol dire di essere parte di una chiesa? E così racconto questo in silenzio. Nessuno dice, oh, ok, grande, ma vediamo quello. E sembra che Giuda è uguale come Abdiah, dell'Antico Testamento, che abbiamo parlato la scorsa settimana, come un profeta, un profeta del Nuovo Testamento, perché lui parla un po' come Abdiah, ma vediamo che lui è molto pastorale e pieno di compassione alla fine, ok? Ma lui parla e lui vuole avvertire ogni chiesa cosa succede quando persone dicono sì, sono un cristiano per nome, forse dovevo intitolare questo, cristiani per nome, ok? Sono un cristiano per nome solo, perché come vivo è come i miei vicini di casa e colleghi di lavoro. Non c'è una differenza. Giuda dice, no, 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 questo disonora il Signore, disonora il Signore, dovete vivere e camminare come parlate. Camminate come parlate, in questa maniera, ok? Allora, Giuda era un mezzo fratello del Signore Gesù, uno di quattro. Adesso le persone chiedono, ma Gesù aveva fratelli e sorelle? Sì, infatti Giacomo, il libro prima di Giuda, è stato scritto da uno fratello e l'altro fratello qui, Giuda, che Gesù è cresciuto a Nazareth con questo scrittore. Fascinante! Lui e Giacomo e gli altri due, anche c'erano sorelle, che Giuseppe e Maria hanno avuto dopo Gesù. Mezzo fratello perché il vero padre del nostro Signore doveva essere sempre il padre celeste, ok? Lui aveva, quindi ha condiviso la mamma, ma non il papà, con questi uomini. Loro non hanno creduto in Gesù. Infatti Giuda e gli altri fratelli l'hanno preso in giro. L'hanno, vuol dire, fatto ridicolo Gesù a volte, finché Gesù è risorto dalla morte. Quando hanno visto lui morire e poi risuscitare, loro subito diventavano credenti e poi evangelisti che hanno fatto circuiti proprio di incoraggiare le chiese e stabilire nuove chiese, o come Giacomo, pastore a Gerusalemme. E così loro hanno dato tutto della loro vita. La prima metà mettendo a ridicolo il loro fratello maggiore, ok? Come ogni fratello maggiore fa. Invece, invece adesso, lui parla di come lui non era solo il mio fratello maggiore, lui è il nostro onorevole re e salvatore. E così difendeva la testimonianza di Gesù. Ok, guardiamo. Giuda, servo del mio fratello, ma il mio Signore e Messia, Gesù Cristo, fratello di Giacomo, non ha detto fratello di Gesù, ha detto lui è sopra, io sono fratello dell'altro, Giacomo. Noi eravamo in un gruppo di prendere Gesù in giro. Ai chi amati che sono amati, ecco, questo è il gruppo, gli amati di Dio e custoditi da Gesù Cristo. Misericordia a voi, questo è compassione, pace, amore, vi siano moltiplicati. Ecco perché sta scrivendo questa lettera, che queste cose che le altre persone, la società, non ne ha. Non ne ha una di tre. Allora, carissimi, ecco l'altro sinonimo, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi, primo punto, a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa ai Santi una volta per sempre. Ecco la nostra fede, è stata trasmessa tramite il Signore. Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini, certi uomini, questo gruppo, altri, lui usa questa parola, certe persone per le quali già da tempo è scritta questa condanna. Vuol dire che nella scrittura, in tutti gli anni, quando vediamo persone del genere che si comportano in questa maniera, vuol dire che Dio ci ha già parlato per anni di questo comportamento, di questo tipo di persone. Vuol dire che non è una sorpresa, non è una novità. Persone così arrivano. Empi che volgano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e il Signore Gesù Cristo. E lui poteva identificare queste persone perché lui voleva scrivere un'altra lettera della grandezza della salvezza. Però lui stava dicendo, aspettate, state per perdere alla grande nella vostra comunità o le vostre comunità dal comportamento di alcuni che sono lì, che sono consumatori, non veramente cristiani, o che sono cristiani ma si comportano più come consumatori che i servi del nostro Signore. E questo è un grande pericolo. E così questo superava la priorità di quello che lui voleva scrivere. Ci siamo? Ok, allora, Giuda qui si chiama loro questi altri, questi infiltrati, questi certi uomini. Allora, avevano due problemi, come abbiamo già visto in questo versetto. Loro sono entrati, la Chiesa, e dicevano una cosa del genere. Dio ci ha dato nuovo favore e nuova grazia nella fede in Gesù Cristo. Sì, siamo d'accordo. E così, con questa nuova grazia, abbiamo una licenza, un permesso da Dio per fare quello che vogliamo fare, come Lui ci ha disegnato. Vuol dire chiudere un occhio verso la tentazione del peccato e vivere con un corpo e animo libero. Un animo libero vuol dire di essere ribelle contro le autorità. Un corpo libero vuol dire di vivere secondo i vostri appetiti della carne. E giustificare, dicendo, con questa nuova grazia, posso tornare, uno può dire, posso tornare ai tempi, ok? Ai tempi dove lodano altri dèi, questi greco-romani, e posso unire con una donna. Posso cercare un rapporto sessuale e anche godere il sesso con qualcuno che non sono sposato, ok? Però posso chiedere anche dopo una benedizione al Signore per questo, perché Lui mi ha già scusato nella croce. Avete capito? C'è una perversione per il motivo della croce, ok? Perché ci siamo è un punto fondamentale. E loro, in questo comportamento, i giovani in Cristo, che non sono maturati, non stavano imparando di chi è Cristo, hanno visto questo comportamento e erano delusi. Hanno iniziato, hanno detto, sì, siamo batteggiati, seguiamo il Signore, però, però, guarda, anche Lui, Lui mi invita a queste feste, queste feste che non lodavano forse un altro Dio o dei dèi, ma erano feste che potevano essere molto pieno di concupiscenza e degli appetiti della carne. E questo ha tirato delle persone, della Chiesa, uno alla volta, come un agnello, no? Come un agnello dalla gregge. Perché le volpi non attaccano quando c'è il pastore lì? Cosa fanno? Loro piangono, loro fanno dei rumori, dei suoni, che loro sono animali feriti e hanno bisogno, loro fanno, i volpi, loro fanno questi rumori in nascosto che come un altro agnello, un altro pecore ferito. E così i giovani, i giovani pecore, loro sentono questo e sono attirati di andare indietro dalla gregge, separando un pochino per ascoltare, per andare, per, in curiosità, di vedere da dove arriva questo rumore e subito a circondare questo piccolo agnello o giovani pecore e i volpi attaccano e consumano. E questa era la cosa che Giuda sta proteggendo la gregge. era una rivoluzione della sessualità, usando teologia come carburante per avere una liberazione per la sessualità e anche per rigettare la correzione dei leader nella Chiesa che stavano dicendo questo è un peccato. E Giuda 19 dopo vedremo essi sono quelli che provocano le divisioni. Gente sensuale che non ha lo spirito. Sensuale perché non spirituale ma sensuale vuol dire che seguono più i desideri della carne che i desideri dello spirito. C'è un contrasto lì. Ovviamente sono tirati ad un lato all'altro e così creano delle divisioni dove i volpi possono arrivare. Gesù ha detto questo in Matteo 7 e versetto 15 16 lui diceva stati attenti per coloro che entrano come volpi vestiti come pecore perché puoi discernere loro per i loro frutti. Non vuol dire le pesche albicoche che erano dintorno ma stava dicendo per le loro azioni il loro comportamento Gesù stava dicendo guardate al prodotto della loro vita prima che seguite loro per la loro vita. Ci siamo? E questo è molto importante perché potete andare online grazie per essere venuti voi che state guardando online potete andare online e cercare qualsiasi insegnante predicatore youtube e anche seguirli non conoscendo niente del loro comportamento molte persone arrivano in chiesa e dicono ah ma a me mi affascina queste persone dicono belle cose sono forti sono bravi sono più bravi di te in italiano va bene non mi frisce quello siete tutti più bravi di me in italiano ci sono bambini nel nido più bravi di me in italiano capisco quello carissimi il contenuto non giudicare il contenitore giudicate il contenuto guardate al prodotto della loro vita quindi state attenti prima che seguite quello che dicono perché ti possono far camminare dove c'è un precipe dove perderai la vita ecco il punto di giuda quindi prima cosa che abbiamo visto combattette per la fede paolo in prima corinzi 15 lui diceva che insegnamento e insegnanti falsi o ha morali immorali vuol dire che corrompano buona etica e buon comportamento vuol dire che quello che semini in cuore arriverà un giorno uguale uguale come il vostro giardino orto a casa quello che semini arriva quindi state attenti che loro non stanno seminando qualcosa come per combattere per la fede ecco molti pastori quando sono cresciuti ho sentito questo messaggio combattere per la fede vuol dire dibattere quelli che insegnano falsamente ma non ha detto che questi sono insegnanti questi sono credenti che sono più adatti alla loro cultura pagana che a Cristo quindi cosa vuol dire di combattere per la fede lui stava dicendo sì dibattere ragionare nella fede sì quello è corretto però lui sta dicendo vivete più un'etica che è sottomessa al Signore Gesù che alla cultura combattere eticamente nel vostro comportamento per la fede quello che fai è una guerra un un lato lato scusate contro contro il malvagio quindi siete armati nel Signore per vincere il male con il bene sì grazie per me aver risposto ok Giuda ci dà adesso una una foto una foto intera di questi caratteri furbi personaggi furbi che stanno arrivando dentro la chiesa seguendo i loro appetiti lui dice fa così lui fa descrizioni e lui parla di se camminano dopo tempo arrivano così queste altre storie nella nostra storia la storia ebraica quindi lui ha preso da storie popolari nella letteratura del giorno dove Giuda ha vissuto durante il tempo di Gesù i libri di storia commentari sulle scritture dell'Antico Testamento da altri rabbì altri saggi e anche dalle scritture e ha fatto perché carissimi come come voi in ogni cultura voi crescete con le varie cose storie storie della vostra gente della nostra gente cresciamo con storie popolari per insegnare delle lezioni anche ai nostri figli ok letteratura come i nostri più grandi scrittori hanno scritto e cose dove le persone avevano ragione dalla nostra cultura che erano popolari questi sono storie testi di cui tutte le persone nella chiesa sono cresciuti ecco e molte persone hanno chiesto ma perché Giuda ha usato ha tirato da queste altre storie popolari del giorno alcuni motivi perché erano ben conosciuti nella comunità sono cresciuti con queste storie seconda cosa raccontavano molto della storia ebraica non essendo nella Bibbia ma altri testi storici che avevano un certo valore per capire cosa è successo alla nostra gente non erano scritture ma erano complementi alle scritture ci siamo e lui ha pescato anche da quelli perché erano riconosciuti un'altra cosa perché è stato molto probabile che queste persone quando sono stati attraiti alla chiesa di venire nella chiesa loro sono piaciuti questi testi loro volevano conoscere di più di questi testi la storia e hanno detto ah voi avete una storia più ricca che la nostra e così vogliamo usare e loro stavano anche usando le storie per giustificare il loro comportamento arriva Giuda dice no 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 guardate nelle storie nelle illustrazioni nei esempi per la verità di come Dio ha scritto la sua storia dovete capire ogni illustrazione ogni storia che lui ha usato riferisce sempre sempre alla sovranità di Dio e l'arrivo di Gesù Cristo ok quindi se noi essendo italiani qui oggi odierni due mili anni dopo noi non abbiamo queste storie nella nostra cultura abbiamo altre abbiamo Dante ok è come di pescare qualcosa che Dante ha detto che era vero non vuol dire che ogni cosa che Dante ha detto era vero spero che non ho offeso nessuno con quello ok Dante era un grande scrittore ma non un uomo perfetto ok non era Gesù ma sto dicendo che filosofi altri persone che parlano e scrivono dicono cose che sono vere se sono sottomessi al Signore e al suo piano ecco come Giuda pesca volevo solo dire perché qui nella nostra cultura ci sono molte persone che arrivano e quando affrontiamo loro con la Bibbia vedono una verità con la Bibbia cosa rispondono la Bibbia è solo un altro testo sacro come tutti gli altri che noi abbiamo qui e nel Vaticano e sto dicendo no 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 la Bibbia non ha una categoria è una categoria in sé è una parola vivente è una parola vivente e cambia dalle persone non c'è un altro libro che può trasformare una persona e anche rappresentare Dio meglio ok quindi questa è una risposta che sentiamo e questa è la cosa che Giuda fa lui vuole esporre questo comportamento usando queste storie lui vuole incoraggiare come combattere quando lui esporre queste cose lui può insegnare come combattere eticamente nella fede come vivere il Vangelo ci siamo ecco perché sta usando queste illustrazioni e lui vuole dire non andare così in un modo disonorabile ma vivere per Gesù in modo onorabile ok lui utilizza quattro storie nell'Antico Testamento o di intorno all'Antico Testamento tre personaggi sei metafori e una profezia ok siete pronti per i prossimi sei ore noi vedremo tutte queste cose numero uno metto le quattro storie qui lui dice in versetto 5 lui parla degli israeliti nel deserto semplicemente che c'era tutto tutto il gruppo tutta la folla degli israeliti vero? ma non tutti erano salvati vero? molti hanno lamentato hanno messo alla prova Dio e così sono caduti nel nel deserto quindi solo per essere chiamato uno del gruppo o essere nella chiesa non vuol dire che sono pronti di essere veramente alletti uno degli amati di Dio ogni cosa che viene che mette una targa un adesivo cristiano non lo è state attenti non lo è ogni persona che identifica io sono cristiano io sono ecco nella nostra cultura io sono un credente ma non un voi sapete quello più che molte scritture perché ripetuto quello a parte non è nella Bibbia quello è nella cultura io sono un credente ma non un praticante vuol dire sono un peccatore alla grande che aggiunge un po' di Dio nella mia vita ok allora israeliti nel deserto non credenti tra il popolo di Dio versetto 6 lui utilizza angeli rebelli in quell'epoca molte persone erano affascinate con questi spiriti angeli messaggeri di Dio loro volevano parlare ricevere visioni ricevere istruzioni loro hanno alzato ad un alto livello l'idea degli angeli ecco lo scrittore degli ebrei il libro degli ebrei stava parlando subito Gesù è al di sopra degli angeli perché hanno guardato agli angeli con tanta stima dicendo sono grandi questi angeli e hanno ammirato spesso gli angeli ma Giuda stava dicendo no 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 anche gli angeli essendo così potere o essendo così potenti c'erano quelli che avevano una dimoranza in Dio e nel suo cielo e anche loro sono ribellati erano lì nella presenza di Dio come voi siete qui nella presenza di Dio in chiesa alleluia siete qui nella presenza di Dio però dipende del cuore anche gli angeli erano ribelli ci siamo versetto 7 lui usava Sodoma e Gomorra ecco la parte della sensualità sessualità e cosa è successo loro avevano tutti i piaceri una zona ricca una zona crescente un popolo crescente e cosa è successo anche loro sono stati condannati dopo tanta pazienza del Signore perché erano proprio vicino al fuoco erano non ascoltavano erano sorpresi dal fuoco poi c'è il numero 4 lì la quarta storia versetto 9 e c'era un un discorso in una delle storie per un un contesto un contestazione tra Mosè e Dio o scusa Michele Michele l'arcangelo del Signore ci siamo? e c'era un combattimento per cosa? il corpo di Mosè dopo è morto ah strano non è una storia che raccontiamo ai nostri figli spesso però tra Satana e Michele c'era questo perché cosa voleva Satana con il corpo di Mosè non sappiamo ma se lui poteva rianimare o guardate mettere le sue osse in una grotta lui poteva catturare gli israeliti e farli adorare un corpo delle osse un scheletro proprio in una grotta e fare un altro vuol dire distrazione dal vero Dio vivente noi non vediamo questo mai nel nostro paese no ah ma avete capito l'intenzione dietro di 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 dire guarda quanta potenza c'è nelle osse questo è un po' l'immagine è così il punto di questa storia è che Michele diceva non è che io dico no a Satana non faccio io la guerra spirituale ma il Signore ti rifiuta il Signore è uno che ti condanna questo è una cosa che anche lui essendo l'angelo più forte nella Bibbia più grande un guerriero Michele attraverso la Bibbia doveva essere sotto la sovranità e l'autorità di Dio dicendo io non combatto Satana direttamente state attenti in molte chiese oggi c'è questa idea che tu puoi andare e affrontare Satana direttamente ma se Michele doveva chiedere permesso anche tu devi chiedere permesso non è che vai e usi queste incantazioni in queste cose bibliche eccetera per affrontare è sotto il Signore che noi combattiamo ok e Giuda sta dicendo no è più nel comportamento di essere sotto l'autorità di Dio che combatte ok allora queste sono le quattro cose ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo che il Signore dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese di Egitto fece in seguito per rire quelli che non credettero egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio questi angeli che sono venuti gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora questo è il luogo con il Signore e loro sono caduti sono venuti posseduti grandi re e guerriere sulla terra si vede in Genesi 6 e loro sono mescolate vuol dire con le donne di intorno e hanno procreato questi mostri vuol dire uomini mostruosi pieno di di Satana e demoni angeli caduti e questo è la loro guarda il prodotto il risultato di quello che sta dicendo in versetto 6 versetto 7 allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro la natura sono date come esempio portando la pena di un fuoco eterno guardate anche loro prendete quell'esempio perché quelli che stanno entrando la chiesa stanno comportando e arrivando a Sodoma e Gomorra stanno viaggiando verso non è che sono tutti lì ma sono quasi alla confine ok? questo è perché lui sta usando questa illustrazione che risuonava molto ogni storia carissimi ogni storia episodio è ricco di di contenuto e di principi di avvertimenti in questo e avvisi ciò nonostante anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo come i sodomiti disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità cosa stavano dicendo? stavano usando gli angeli negli loro appetiti stavano dicendo noi abbiamo conosciamo tanto siamo consapevoli delle sfere spirituali che noi voi non siete consapevoli e appoggiando guardate appoggiando sui loro sogni loro hanno formato un gruppo di sognatori hanno sognato insieme e hanno creato una certa altra parola che negava le autorità che erano anche nella chiesa spiegando la parola di Dio quindi c'era una divisione avete capito? quindi loro hanno detto ogni sogno che avevano era una visione dal Signore dagli angeli e così avevano questi permessi direttamente dal Dio per vivere in questo modo cosa è successo? sono andati via assolutamente confusi o sono rimasti per ottenere persone e confondere loro invece un altro l'Arcangelo Michele quando contendeva con il diavolo con il diavolo disputando per il corpo di Mosè non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso ma disse ti sgridi il Signore ok? non io ecco quanto quanto importante è questo per come combattere combattere nella presenza e sotto i comandamenti del Signore ubbidendo Gesù ok? anche essendo sotto l'autorità come Michele poi tre personaggi nei prossimi versetti lui usava Caino Balam e poi Core o Corà in questi episodi Caino lui ovviamente aveva il gusto per il sangue ha ucciso il suo fratello e lui è stato ribelle sotto l'autorità pieno di invidia e poi Dio ha detto non deve essere un fuggito sempre e cosa ha fatto? Ha creato e costruito una città piena di malvagio ribelle dopo prima e dopo ok? Seconda persona Balam Balam era un profeta che è stato comprato compromesso dal re Balak Balak è venuto e lui ha detto io odio lui era un figlio di Esau un Edomite no? E Balak stava dicendo tu Balam devi profetizzare e condannare gli israeliti maledire gli israeliti quando stanno camminando passando il nostro paese Balam era entusiasto lui è venuto perché hanno promesso tanti schei per Balam tanti soldi e così Balam era lì guardando tutto il popolo di Israele e ogni volta che lui parlava del male il signore ha girato la lingua nella sua bocca e lui parlava del bene ha benedetto e così Balak stava dicendo ma ti sto pagando e stai facendo l'opposto ok? quindi che tipo di profetto sei? e lui stava dicendo ma ogni volta non posso non riesco alla fine lui ha detto ok pagami bene e trovo un'altra maniera perché non posso pronunciare non riesco a pronunciare sono bloccato cosa ha fatto? lui ha venduto la sua anima ha preso gli soldi e lui ha fatto sedure la gente di Israele nella sessualità e adulteria specialmente tutti gli uomini di commettere adulterio quindi la seduzione Balam ha usato soldi seduzione è stato corrotto Corri Corri è venuto e lui ha detto questo Mosè avete sentito come lui parla? avete sentito come lui parla? avete visto questo Mosè 80 83 anni noi non possiamo trovare uno più giovane che Berlusconi scusate che Mosè non possiamo mai trovare uno più giovane noi dai noi siamo grandi Corri e la nostra tribù possiamo fornire noi altri leader che Arone e anche Mosè e quindi c'era una battaglia come il vecchio Old Wild West no? e così c'era un un affronto un confronto tra un giorno Mosè Arone corre la sua gente alcuni di voi sapete cosa è successo Dio ha parlato per Mosè Arone ha aperto la terra il terreno sotto corre e tutti tutti i suoi compadri e sono stati ingottiti dalla terra e la terra è chiusa aperta chiusa ciao corre e c'è una storia così quindi qual è qual è la cosa qual è la cosa che vediamo simile in tutte queste cose ribellione un certo senso che io sono autonomo per me stesso e anche voglio il mio benessere ad ogni costo voglio soddisfare la mia carne quindi pensate immagine e corpo io sono autonomo io voglio vivere come voglio vivere vivo e lascio vivere agli altri è vero anche dalla nostra cultura ci sono queste cose che scorrono ah sì è vero ok guardate guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino e per amore di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balam e sono periti per la ribellione di Core ecco il versetto tre personaggi questo se se volete capire cosa sta accadendo forse incredenti o persone che sono consumatori guardate alla fine di tre personaggi Giuda undici è per noi poi sei metafore barriere corallina nascoste c'è un piccolo lettera nel greco che la versione italiana secondo me ha mal tradotto c'è un o che è stato cambiato ad un a e così diventava la parola macchie macchie come macchiato in italiano vedrete macchie ma nel greco originale perché lui sta parlando delle cose della natura che vedrete e veramente lui usava queste della corallina queste barriere che sono nascoste sotto l'acqua proprio sotto il livello e quando state arrivando in spiaggia potete proprio all'arrivo di essere vicino a Gesù essere nella sua presenza proprio lì distruzione della tua vita ecco come sono pericolosi sono vicino la spiaggia ok quando siete vicini la santa cena anche loro avvicinano e così loro sono come coralline barriere così nascosti dove dove state godendo la presenza del Signore vicino alla spiaggia ok pastori che banchettano vuol dire che mangiano tutto il cibo prima di dare agnelli o pecore e non c'è più per loro nuvole senza acqua ok che non accade qui in Italia c'è acqua che pioggia che arriva senza anche nuvole però grazie a Dio in quel deserto c'erano molte nuvole che hanno promesso tanto ecco acqua per le nostre verdure e niente promesse promesse vuote alberi di autunno senza frutti che quando il momento per raccogliere il frutto non c'era niente secchi onde furiose del mare destra sinistra su giù sono ovunque non sono stabili stelle erranti queste erano le pianette perché non avevano una posizione fisso giravano per sé quindi loro stanno girando senza motivo cosa è la cosa comune in queste sei cose a parte essendo molto naturale della natura abbiamo già detto quello quindi non potete rispondere e ripetere quello che ho già detto qual è la cosa più comune in queste sei cose sì delusione senza scopo senza motivo ci siamo? non ti ho sentito illusione ok sì 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 senza scopo senza motivo eccetera cose che erano destinate per il bene ma non producono niente del bene ogni cosa ok carissimi queste sono le cose essi sono dalle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno passendo se stessi nuvole senza acqua portate qua e là dai venti alberi di autunno senza frutti due volti morti sradicati onde furiose del mare schiumanti la loro bruttura stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno e poi lui andava con questa cosa anche per costoro profetizzo Enoch settimo dopo Adamo dicendo ecco il Signore è venuto con le sue sante miriardi per giudicare tutti per convincere tutti gli empi in mezzo a loro di tutte le loro opere di empietà che hanno empiamente commesse e di tutti gli insulti che gli empi pecatori hanno pronunciati contro di lui qual è la parola chiave? empi sì sono dei mormatori ecco il profilo lui chiude il profilo qui mormatori scontenti camminano secondo le loro passioni la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano di ammirazione le persone per interesse è così ecco il profilo se voi potete discernere queste cose e queste vie percorsi per camminare potete combattere per la fede nel vostro comportamento nel vostro comportamento non seguire questo profilo ok? tutti? siete ancora svegli? bene ricordatevi ciò che vi è stato insegnato pochi versetti grandi messaggi ma voi carissimi ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto predetto quando vi dicevano negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni quindi non doveva non doveva essere una sorpresa questo è normale arrivano delle persone che hanno queste empietà in loro eccetera e non dovete andare in panico perché siete ben informati da buoni rappresentanti del Signore ok? cari per i giorni oggi e per il futuro oggi vi sto dicendo siete ben informati di come persone che vogliono cambiare il Vangelo nella nostra Chiesa e nelle nostre Chiese possono agire ok? siete accorti quindi possiamo fare con calma questo approccio essere stabiliti quando ricordiamo siamo stabili essi sono quelli che provocano le divisioni gente sensuale che non ha lo spirito carissimi è semplice il messaggio se tu sei guidato e spinto dalla carne non sei guidato o spinto dallo spirito vero? quindi o la domanda è chi ha dominio nella tua vita? tu o lo spirito? tu o Dio? e lui dice di edificare con questo quindi avere lo spirito essere guidato da lui e non dalla carne calmo aspettando che questo succede ma deciso di seguire Gesù seguite in questa maniera costruire a questo punto noi tutti vogliamo che Giuda dice di metterli fuori cancellarli dalla comunità e così sentirete molti più adagio molti più calmi ignorare metterli metterli via e vogliamo tutti noi sentire questo però nella comunità cristiana ecco la sorpresa Giuda non dice questo lui dice non focalizzare su di loro prima focalizzate su di voi sulla vostra fede vuol dire di essere chiaro in quello che credi e quello che vivi guardate pienamente al vostro al vostro comportamento ci siamo lui dice stai continuate sempre avanti in due modi il primo guardate ma voi carissimi edificando voi stessi nella vostra santissima fede numero uno pregando mediante lo spirito santo questo vuol dire con quando pregate di avere lo spirito il suo battito di cuore calibrando il tuo battito di cuore di essere sotto sommissione a lui dicendo tu sei in controllo guidami spirito santo questo è il suo potere portami a Gesù portami a vedere Gesù ok questo è il suo cosa vuol dire quando lui dice pregate nello spirito santo perché spesso guardiamo e usiamo tipo un'incantazione non è così lui sta dicendo quello che è importante dallo spirito deve essere importante a te quello che odia Dio tu devi odiare lo stesso e lo spirito ti guidi a vivere per Gesù quindi se noi non stiamo pregando cosa vuol dire siamo come le onde furiose guidati da ogni appetito che viene o preghi o muori o preghi o croli questa è la cosa importante la seconda cosa che lui dice conservatevi nell'amore di Dio la sfera vuol dire di agire nel servizio dell'amore per compiacere il Signore non per ricevere la sua disciplina il suo giudizio vivere come Gesù è al tuo fianco proprio proprio lì nella presenza nostro Signore Gesù è vita eterna ok vuol dire che stai aspettando come un credente l'arrivo del Signore e la benedizione dal Re che dice per te ti accolgo nella mia presenza che benedizione sarà quella è la mia motivazione per oggi perché un giorno Lui corregge tutto Lui sanifica tutto e poi Giuda dice numero 4 finale salvateli il più possibile ecco l'altra sorpresa invece di castigarli invece di buttarli via salvateli lui dice gira e andare perché forse non è troppo tardi sono al precipe sono nella casa che sta bruciando sono lì forse a letto dormendo e vedi fumo che sta scendo dalla loro casa ma salvateli guardate abbietà pietà di quelli che sono nel dubbio ci sono quelli che non sono maturi in Cristo invece di dire o tu sei in o tu sei out ma tu devi decidere no devono crescere hanno bisogno di un fratello come Gesù o una sorella che affianca loro per dire se continuate in questa direzione distruggerai la tua vita camminate con loro dare compassione perché anche tu eri lì un giorno vero anche tu avevi dubbi e così Dio dice per i dubitosi venite da me dicevo tu devi andare strappandoli e poi abbiate pietà mista a timore c'è un bilancio equilibrio odiando perfino le veste contaminate dalla carne cosa vuol dire quando andate nel casa che sta bruciando in fuoco prendi la persona ma non porta i loro vestiti a volte il pericolo è così grande che loro hanno bisogno di una trasparenza a volte devi portarli fuori nudi lasciando dietro lo stile di vita che devono rinunciare per bruciare nella casa non portare questo vesto con tutte le macchie del peccato perché lui sta dicendo è molto facile quando stai agendo di non agire sotto il timore del Signore e essere tentato dal stesso peccato quando vedi il loro stile di vita permettere la cosa importante è la persona andate con timore del Signore e fare un salvataggio della persona per il Signore alleluia che bello la comunità di Dio la Chiesa può essere voi siete agenti di Dio infatti siete oh questo è bello siete vigili di fuoco un pompiere che sta facendo un salvataggio dalla finestra perché perché forse se tu non salvi se tu non dici qualcosa possono essere distrutti possono essere distrutti andate con misericordia con amore salvateli o saranno distrutti ci siamo? con timore è come il nostro Air Force no? mantenatore delle macchine delle erdi loro lavorano sotto sicurezza con tanti chimici con tante cose in situazioni pericolose ma con il protocollo della sicurezza agendo bene e mantenendo bene le cose la paura il timore del pericolo di intorno possono mantenere e riparare un aereo e questa è la stessa cosa che sta dicendo con timore vai guardate la situazione che è pericoloso ma vai con la parola e la formazione che Dio ti ha dato qui preghiamo signore grazie per questo messaggio grazie per il tempo che abbiamo passato in Giuda e questo sarà la nostra benedizione dopo ma vogliamo fare questo di avere compassione su coloro che sono che hanno dei dubbi vogliamo salvare coloro che sono proprio nel fuoco prima che è troppo tardi e vogliamo avere compassione senza essere troppo troppo cieco e troppo empio anche noi vogliamo avere timore di te perché Signore tu vuoi salvare persone tu sei venuto per salvare persone per dargli la salvezza dalla croce che hai ottenuto una nuova vita molti saranno sorpresi al loro l'ultimo giorno il giorno anche del giudizio del Signore e vogliamo predicare oggi che sta arrivando questo giorno e vogliamo dire a tutti che non conoscono il Signore ho dato la loro vita al Signore di non essere consumatori ritornate al Signore vivere non come consumatore di distruggere gli altri anche te perché sarai consumato invece di essere un servo di Cristo come Giuda ha detto all'inizio del suo libro questa lettera oh Signore vorrei vedere una umiltà un ravvedimento una gioia una gioia immensa tra di noi anche per aiutare entrare in situazioni difficili e non cancellare e abbandonare persone che hanno bisogno della Tua parola un avviso del pericolo che non c'è il ponte più e cadranno nel fiume e passeranno Signore stabilisce questo nel nostro cuore che Tu hai un battito di compassione per l'umanità e alcuni che arrivano spesso nella nostra comunità Ti seguiamo e vogliamo costruire e realizzare la nostra fede in preghiera in discepolato e nel servizio amorevole Alleluia Amen